eccoci qua in un nuovo video ovviamente buonasera a tutti allora come avevamo preannunciato nel video scorso poi volevamo fare il video del giveaway per i 100 iscritti che abbiamo superato alla grandissima e vi ringraziamo come sempre a tutti quanti dal primo all'ultimo ovviamente un traguardo inaspettato visto che siamo solo giorni solo pensate che solo tre giorni fa tanto per farvi un esempio eravamo a 63 ed eravamo scese addirittura 61 e per cui diciamo ma insomma comunque non avevamo sto grande ancora riscontro poi quel famosissimo video di schifida ha fatto un botto pazzesco pensate che ieri era 3.000 pensate che è arrivato a superare le 5.000 visualizzazioni quindi veramente un traguardo fantastico le ringraziamo tanto 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 infatti vogliamo premiare vero esatto come già allora precedente come già sapete appunto hanno annunciato il giveaway queste qui sono le regoline adesso vi andrò a delencare che comunque troverete in descrizione sotto prima di iniziare il giveaway volevo salutare due persone che me l'hanno richiesto alexa benedetto ciao ciao e sofia bellotti un bacione a tutti e due ciao e grazie ancora per seguirci allora diciamo queste famosissime regole per questo giveaway allora prima regola essere iscritti al canale perché quindi sono i miei iscritti anzi scusate i nostri iscritti possono partecipare essere residenti in italia perché ovviamente io noi dobbiamo spedirvi appunto i premi quindi all'estero evitate di essere di charm and shake o di questo e di essere abdul kabur ecco perché le spese di spedizione sono più sono più costose del prezzo in cui con cui abbiamo preso le cose poi tre mettere mi piace al video questo video qua essere maggiorenni o avere il consenso dei genitori ecco io elenco perché ne ho diversi soprattutto c'ho alcune persone con la quale la sera ci divertiamo tanto a giocare alla playstation faccio un paio di esempi commander luca 99 bit visto che 99 non è ancora maggiore non credo adesso non mi ricordo ma comunque ovviamente ditemi datemi il consenso che i vostri genitori nel tal caso doveste vincere per pura fortuna come tutti alla fine questo giveaway potremmo spedirvi la cose poi condividere il video su facebook e qua voglio dire che a breve apriremo anche una pagina instagram così potete anche seguirci lì poi volendo possiamo fare anche le dirette possiamo insomma anche riconfrontarci eccetera ovviamente per quanto riguarda l'instagram essendo comunque ce l'abbiamo tutte e due sono come due pagine vedremo se apriremo una sola però perché è meglio poi l'ultima commentare con un solo commento quindi uno solo con scritto hashtag partecipo in modo tale che poi sappiamo che partecipate va bene sì ma i commenti verranno poi selezionati con un programma random quindi vedo tantissimi youtuber che utilizzano questo programma anche io utilizzerò in modo tale che questo programma appunto sceglierà tra i commenti un commento solo sarà quello che vincerà ovviamente è casuale quindi non è che favoriamo qualcuno e mai lo farei ecco questo giveaway poi comunque sotto in descrizione vi scriviamo tutte le regoline e questo giveaway lo facciamo terminare il 24 di giugno che sarebbe sabato che sarebbe sabato questo mi sembra giusto sabato prossimo quindi sarebbero giveaway durerà due settimane esatto quindi sabato 24 a mezzanotte finirà questo giveaway il 25 registreremo il video dell'estrazione quindi quando scatta la domenica mezzanotte esatto non potete più commentare anche il partecipo qualora viene a essere scritto diciamo mezzanotte 2 3 non vale più esatto ok e niente buona fortuna a tutti noi adesso tu devi dire due cosine tanto ovviamente in dio ci vuole fortuna cioè è culo e basta tanto non vi preoccupate che a mano a mano che andremo avanti allora non vincerà ne faremo altre due cose rapide se volete scrivere oltre al partecipo dei giveaway che quello è un commento scrivete un altro commento relativo a chi vuole a chi no conviene non farglielo fare perché altrimenti il programma poi non conta bene i commenti allora allora conviene che fare un altro video faremo un altro video a parte di questo comunque meno chiacchiere partiamo subito con i premi allora il primo premio che vorrà dire lui ovviamente perché ovviamente riguarda la mia parte è un gioco della playstation 4 che ovviamente non uso più ma che comunque do via l'ho anche pagato bene all'epoca ovviamente è anche il mio primo gioco della della playstation 4 che mi fu data da chiara quando me lo diede due anni fa e si tratta non piacere alle ragazze perché o perlomeno a chi non segue il calcio comunque fifa 15 ovvio che ha le erosi aggiornate di due anni fa ma voglio dire c'è ancora i gueni a napoli tanto per dirti vabbè comunque basta che l'ho trasferita la juve va bene e quindi questo è uno di questi per quanto riguarda me quindi la mia categoria ci sono un po di cose in una parte sua un fidget spinner appunto in palio rosso nero lo scelto io perché abbiamo messo uno schifido dato che alcuni alcune persone mi hanno detto che ancora non è uscito nelle varie città il super fluffy ovviamente abbiamo deciso di mettere un mio schifido super fluffy quindi quelli nuovi in palio abbiamo messo una bustina degli echimals abbiamo come al solito queste brutte pesti qua questo qua l'aprirò io però che si chiamano paciocchini crudis questo ovviamente abbiamo vedete questi bebe inutili paciocchini crudis quattro salti in padella quindi abbiamo appunto una box di paciocchini e poi questo ce ne hanno regalato questo aquilone magari lo vince qualcuno che c'è al mare o andate a far volare il vostro culone e poi e ovviamente che cosa ho detto io l'altra volta ve lo ricordate un po ovviamente arriverà senza dubbio quell'odiosa palla celeste mannaggia santa una lol che mannaggia una lol mannaggia nuovamente in c'è uscita dal negozio quindi non aperto e sentite dal rumore e potete capire che tipo di ball è eccola qui nuova di pacca proprio uscita dal negozio in più questo diciamo questi sono i questo è il video giveaway che per questa parte termina qua e va bene adesso c'è una sorpresa visto che voi vi state iscrivendo tantissimo al canale c'è una sorpresa per voi guardate un po tada l'ho presa un'altra ma l'aprirò io adesso c'è è la quarta c'è ancora una volta questa è la quarta allora ci sarà anche una quinta io sono convinto è la ventottesima lol che andiamo ad aprire e sarà anche l'ultima e la prossima volta dirò che sarà anche l'ultima se nel caso fosse una doppia la metterò nel giveaway così ne avranno due quindi pensate che razza di premi avete in palio doppia lol allora andiamo ad aprire al 90% doppia se fosse doppia questa cosa è stata pensata al momento adesso l'ho pensata per voi se fosse doppia tanto comunque non ce ne farei niente alla fine allora partiamo subito con questo cos'è lolipop ma dai era quello che c'era sul sul sull'indescrizione del del dello stand lo stesso indizio ma dai ho già capito chi è no può essere anche di noi ma dai ma perché mi devi prendere sempre quello già capito anch'io chi è se fosse ancora ma non farli vedere non servono è vero no che non servono lo sapete che non servono diteli di non farli vedere ah vai a prendere le forbici che non abbiamo preso e l'acqua e anche l'acqua si così bolle azzurra vediamo è una giara quindi non è una bottiglina vediamo se è riuscita anche sì ok questa è questa qui io ho riuscito ad aprire eccola qua eccola qua ovviamente ci mette la sua parte di dietro ok andiamo a vedere chi c'è qui e dalle scappettine riusciremo a capire chi è vediamo un po' ok perfetto giusto giusto a pennello è la cowgirl che io ho scambiato e quindi che mi è tornata indietro e che non ho c'è perfetto no non ci credo c'è l'ho scambiata per fresh e giusto giusto stamattina mi è arrivata e mi è ritornata c'è scusami un attimo te ne mancano quattro quattro c'è su venti mi sembra sì c'è guardate che razza di probabilità che c'era però diciamo che quelle quattro che mi mancano sono molto molto difficili da trovare sì ma te c'hai c'è eh 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 a fortuna a fortuna non ce n'è probabilmente ragazzi il video uscirà diciamo prima che lo finisco perché non so se riuscirò a meno che non qualcuno di buon cuore non le scambio comunque me le faccia avere perché quelle che mi mancano sono proprio le più difficili anche se sono comuni però sono le più difficili da trovare quindi appunto questo abbiamo il vestitino ok opla saluto però va bene fa niente la codiamo poi dopo allora qui c'è il ciuccio ok appunto il ciuccetto qua vabbè la checklist ormai penso che la sappia da memoria io no no figurati ne abbiamo aperte 30 quasi ok eccola qua questa non piange quindi controlliamo subito neanche fa pipì cioè ragazzi fino adesso ne ho trovata solo una che fa pipì quindi sputa quindi non ve la faccio neanche vedere alla fine ok non può cambiare colore no questa non cambia colore e niente allora ragazzi questo è quanto esatto quindi avrete una lol in palio e tutte le altre cosine appunto che vi abbiamo fatto vedere esatto giusto due secondi risetti i primi che ci sono per quanto riguarda me FIFA 15 per quanto riguarda Chiara Fige Spinner una bustina degli Echimals una palla celeste chiamata lo Surprise una bustina dei pacciocchini Crudis così potete farli saltare in padella e mangiarveli poi mi saprete dire se sono buoni un aquilone e un aquilone gratis praticamente vabbè e una una schifezza chiamata Schifidor Slime super foco slime esatto quindi appunto questi sono i premi avete tempo fino al 24 a mezzanotte per commentare per commentare vi ricordo un solo commento con scritto hashtag partecipo comunque basta le regoline ve le scriviamo giù quindi se mai ve le dimenticate esatto e niente cosa dire noi vi salutiamo e niente ci vediamo continuate a cioè penso che non ci sia bisogno di dirlo perché alla fine ci state sostenendo tantissimo esatto io spero che deve essere tutto naturale quello che nasce deve essere naturale io spero che continuate ad iscrivervi come vi ripetiamo non è obbligatorio sper dunque noi lo speriamo perché ho appena detto è una cosa naturale se piace se i video piacciono a chi li guarda sono convinto che sicuramente le X ti possono solo crescere e non diminuire per cui ecco è così la cosa come io la penso per cui ecco niente appunto abbiamo scartato un'altra di queste porterie qua eccomi qua scusate è proprio brutta mamma mia come fa va bene guarda sempre in modo storto appunto vi ringraziamo tutti quanti spero che partecipiate in tanti a questo giveaway e cosa dire ci vediamo al prossimo video buona fortuna a chi vincerà e a chi perderà niente gli daremo una medaglia di legno in palio non vi preoccupate perché tanto mano a mano che saliamo se saliamo ovviamente perché se saliamo saluto grazie a voi ci saranno altri giveaway io le scale non le ho da fare quindi posso solo scendere e salire allora ragazzi cosa dire noi ci vediamo al prossimo video un carattolo ciao ciao ciao